Una donna contro tutti, nella vita e nel suo film. Haifa Al-Mansur è la prima regista donna dell'Arabia Saudita e qui a Venezia porta in concorso The Perfect Candidate, interpretato da una straordinaria Mila Alazzarani. Il film racconta un'altra storia di emancipazione femminile, quella di una giovane dottoressa che decide di andare contro la società conservatrice maschilizza del suo paese candidandosi a sindaco nelle elezioni del Consiglio Comunale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.